Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro Un nemico ha fatto questo E i servi gli dissero Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose Perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme, fino alla mietitura E al momento della mietitura dirò ai mietitori Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio Espose loro un'altra parabola dicendo Il regno dei cieli è simile a un granello di senape Che un uomo prese e seminò nel suo campo Esso è il più piccolo di tutti i semi Ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto E diventa un albero Tanto che gli uccelli del cielo Vengono a fare il nido fra i suoi rami Disse loro un'altra parabola Il regno dei cieli è simile al lievito Che una donna prese e mescolò in tre misure di farina Finché non fu tutta lievitata Tutte queste cose Gesù disse alle folle Con parabole E non parlava ad esse Se non con parabole Perché si compisse ciò che era stato detto Per mezzo del profeta Aprirò la mia bocca con parabole Proclamerò cose nascoste Fin dalla fondazione del mondo Poi congedò la folla Ed entrò in casa I suoi discepoli Gli si avvicinarono per dirgli Spiegaci la parola della zizzania nel campo Ed egli rispose Colui che semina il buon seme È il figlio dell'uomo Il campo è il mondo E il seme, buono Sono i figli del regno La zizzania sono i figli del maligno E il nemico che l'ha seminata È il diavolo La mietitura è la fine del mondo E i mietitori sono gli angeli Come dunque si raccoglie la zizzania E si brucia nel fuoco Così avverrà alla fine del mondo Il figlio dell'uomo Manderà i suoi angeli I quali raccoglieranno dal suo regno Tutti gli scandali E tutti quelli che commettono iniquità E li getteranno nella fornace ardente Dove sarà pianto e stridore di denti Allora i giusti splenderanno come il sole Nel regno del padre loro Che orecchi ascolti Bene, carissimi amici In questa sedicesima domenica del tempo ordinario Stiamo continuando il nostro cammino Per riflettere sulla parola di Dio Che ci accompagna nella liturgia Non dimentichiamo mai che la liturgia della parola Ha una sua dignità grande All'interno della celebrazione eucaristica Liturgia della parola e liturgia eucaristica Sono un unico E quindi anche la parola ascoltata La parola celebrata La parola pregata Diventa veramente un modo per celebrare Il giorno del Signore Soprattutto in questo periodo immagino Chi è in giro Per ferie eccetera Dico sempre È importante la celebrazione dell'eucaristia È importante se riuscite Celebrare la domenica Nella comunità Nella vostra comunità O dove siete Ma non dimentichiamoci mai Che anche l'ascolto della parola La riflessione sulla parola La preghiera sulla parola Della domenica Vi può aiutare Ci può aiutare Ad approfondire Il significato profondo Della nostra vita Quindi E all'interno di questo Atteggiamento Direi proprio di Adorazione Di ascolto Profondo Del cuore Questa domenica Ci parla proprio Della sapienza La sapienza del cuore La parola Seminata nel nostro cuore Il Vangelo di Matteo Parla della parabola famosa Il regno dei cieli Si può paragonare A un uomo che ha seminato Del buon seme nel suo campo Poi c'è Un'altra parabola Che dice Un'altra parabola Il regno dei cieli Si può paragonare A un granellino di senapa Oppure Un'altra parabola Il regno dei cieli Si può paragonare A lievito E via Il buon seme È il figlio Dell'uomo Il campo È il mondo Eccetera C'è la spiegazione Allora io vorrei Soffermarmi subito Sul valore Sul grande valore Della parola Della parola Di Dio Che è sapienza Per il nostro cuore Uno dei doni Dello Spirito Santo È proprio il dono Della sapienza Che cosa vuol dire Questo dono Che cos'è questa parola Cosa ci aiuta La parola di Dio Nella nostra vita Innanzitutto sapere Vuol dire dar gusto Dare senso Significato Alla nostra esistenza Dunque la parola Non è semplicemente Un evento intellettuale Anche Io devo capire Quello che il Signore Si rivolge a me La parola di Dio Non è soltanto Una regola di vita Che cosa devo fare Perché effettivamente Lo è anche L'uno e l'altro Ma prima di tutto Parola di Dio È Gesù Gesù è il verbo Incarnato Gesù È la persona Che dà senso Significato Sapore Alla nostra esistenza Illumina Nostra mente E dice a noi Vieni e seguimi Ecco riscopriamo Sempre di più La centralità Della persona Del Signore Che continua A vivere Sacramentalmente Nella parola Annunciata Nella parola Celebrata Che si fa carne Nell'Eucaristia Nei nostri fratelli Tutto questo Ci dà l'importanza Però della rivelazione È chiaro che noi Attraverso la parola La rivelazione Possiamo capire Sempre meglio Dove è quel seme Cosa e che valore Ha quel seme Soprattutto per costruire Un nuovo regno Il regno di Dio Il regno dei cieli Nella nostra vita E nella vita del mondo E allora su questa parola Ascoltata Celebrata Che dà senso Significato E che permette A noi Di costruire Di vivere Di far nostro Il regno dei cieli Vorrei soffermarmi Proprio sul valore Di questa parola Che ripeto Dà libertà Questa è la prima Osservazione Che volevo dire Regno dei cieli Vuol dire Signoria di Dio In ebraico Si dice proprio Malkuth Yahweh Il regno di Dio Il regno del Signore Yahweh E cosa vuol dire Il regno Che Dio è il nostro re Vuol dire Che la nostra libertà È provata Nella verità Della sua parola Qualunque altra parola Ci può rendere schiavi Ecco La parola di Dio In realtà Proprio perché Non si contrappone a noi Proprio perché Non va contro di noi Ma vuole la nostra Realizzazione Dio non è Al nostro paragone Non è una lotta Tra noi e Dio Altrimenti sarebbe Veramente L'incontro di due Libertà che si contrastano Egli si è Donato totalmente Noi siamo Dono di Dio E dunque Affidarci a Dio Vuol dire Non essere limitati Nella propria identità Ma realizzare La nostra identità Credo che questo sia Un elemento Molto molto bello Molto importante Viva la libertà Ma una libertà Nella verità Nella relazione Senza questa relazione Con Dio Possiamo cadere In varie forme Di schiavitù E allora In questo senso In questo tempo estivo Vi dico Vivete La gioia Della libertà Una libertà Non di far qualunque cosa Una libertà Di fare cosa voglio io Ma quello che Dio Mi dice Nell'amore Nella carità Ogni volta che io farò questo Al più piccolo I miei fratelli L'hai fatto a me Pensate che è bello Quando voi Date del tempo Un fratello Vi sembra di rimanere Meno liberi Ma in realtà State diventando Più liberi Perché vi state Liberando Da ogni forma Di schiavitù Di egoismo E di limite Il limite Che lo possiamo E' nostro Del consumismo Della società Sono loro Che ci limitano Donarsi E' il modo migliore Per realizzarsi Ecco Chiediamo al Signore Proprio questo dono Buona domenica a tutti Buona domenica a tutti Buona domenica a tutti